Ciao ragazzi, eccoci qua, ben ritrovati, c'è un doppio compleanno a festeggiare, ma la questione è molto più critica di quello che sembra. Prima ve la presento, ciao, come ti chiami? Lorena! Di dove sei? Colombianissima! Quello, Sudamerica! Brava, quindi tu parli spagnolo molto bene! Parlo spagnolo molto bene! Wow, wow, che chica hai, che chica papi! Sono chica caliente, chica caliente! Dimmi un po' chica caliente, ci dicono dalla regia che prima ti ha portato in un ccciciop e tu sei impazzita e hai detto, compro la vetrina! Poi hai guardato, hai fatto, prendo quello rosso e la tipa di fa, ma quello è l'estintore! Però più grosso! Buon gustaglia! Va bene, va bene, va bene, dici un po'. Qua da noi, no? Noi volevamo sapere, tu sai che poi dovrai ballare con una pazza fossennata? Certo! Sai che se qualcuno ci prova, molto probabilmente, è bene se tu ci stai per gentile cortesia. Venga! No, fantasi! Finta c'è ancora! E speriamo che venga! No, speriamo! No, speriamo! La nostra doccia, poi tocca a prenderla a casa con l'acqua! Ai papi! Ai mamma mia! Papi! Va bene, e lei è solo una dei due festeggiati? Sì! Intanto io ti lascio qua, ti bacio! Grazie, mio amore! Ma ci prometti che ti diverti a Buso? Grazie, mio amore! In modo gargantuesco? Sì, molto bene! Fantastico! Non sai cosa vuol dire gargantuesco, vero? No! Ti vivi! Viva l'ignoranza! Viva l'ignoranza! Viva l'ignoranza!